Siamo irlandesi, anche se ci sarà la Brexit, continueremo a girare in Europa, non voleremo nel Regno Unito, non mi preoccupo degli aeroporti regionali, toglieremo molti velivoli dagli aeroporti del Regno Unito nell'aprile del 2019 e li porteremo nel resto dell'Europa e magari sarà vuoto per un po' di mesi. Comunque c'è una concreta prospettiva, non ci saranno voli tra il Regno Unito e l'Europa per settimane o mesi a partire dall'aprile del 2019 e se il Regno Unito ha la sua posizione e mantiene la sua forte posizione lascerà l'Unione Europea e lascerà i cieli liberi. Non ci sarà un accordo sostitutivo, quindi il Regno Unito nei prossimi 12 mesi dovrà trovare il modo di ritornare in Open Sky oppure di avere degli accordi bilaterali con l'UEA27.